Amici di GeatsChina.it, rieccoci di nuovo con lo ZTE Grand S3, device del quale vi abbiamo appena mostrato la feature dello sblocco tramite sguardo. Dobbiamo fare una piccola correzione, non viene effettuato lo sblocco tramite riconoscimento della retina, quanto più invece tramite riconoscimento del flusso sanguigno che passa all'interno della parte bianca del nostro occhio. Questo device, come potete vedere, è un device da 5.5 pollici con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Altre specifiche, come avete appena potuto vedere dalla scheda tecnica, i 3GB di RAM molto interessanti, è Android KitKat 4.4. Purtroppo per ora non sappiamo ancora se verrà importato in Italia, non è prevista attualmente l'importazione per l'Italia. Vediamo un veloce touch and fill, nonostante le dimensioni comunque in mano, considerate anche l'allarme che non aiuta, in mano sembra essere ben posizionato, materiali ci sembrano piuttosto plastici, vediamo il logo Dolby, il frame in plastica, sembrerebbe plastica sul bordo, piuttosto sottile, 5.5 pollici, ottimo il touch and fill, questo è quanto per quanto riguarda lo ZTE Grand S3. Grazie. 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 Grazie.